Proseguono i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Bambina a Tagliaborse, che hanno avuto inizio lo scorso 1 settembre e termineranno domenica 11 settembre. Ieri mattina si è tenuta la solenne celebrazione ecoristica, presieduta dal Vescovo della Diocesi di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, cui è seguita in serata l'accoglienza dei pellegrini della parrocchia San Giovanni Battista di San Giovanni Montebello. Nei prossimi giorni verranno poi accolti altri pellegrini, provenienti dalle parrocchie di Acireale e Nunziata. Il culmine dei festeggiamenti si avrà poi nella giornata di domenica, dove si svolgerà la solenne messa presieduta dal Vescovo Veneto della Diocesi di Acireale, Monsignor Piovigo, e avverrà l'uscita del Simulacro della Santa, che percorrerà le vie del paese accompagnata da fedeli e dal corpo bandistico.